Per me, siamo ragazzi, hanno messo le loro attività e mi hanno mandato la veste, la veste non è arrivata. E giù da sposare, non c'erano i gazzi che erano astretti con la famiglia, e loro erano astretti. E' ancora una sposata, e tenivano già la veste accattata. Riccetti, gli agnevoli dicevi, come faccio io? Riccetti, non ti preoccupi, perché io ti faccio sposare con la veste meglio. E mi faccio sposare con la veste sopra. Oh, that's nice. Yeah. Non la faccio sporcare, niente, mi è stata così accorta. Comunque, quando otti ore non l'ho, arrivava la veste. Ma otti ore. Yeah. E con quella lì, l'hoppa, mi ha giù da fai i bici a me da lui. That's good. So, he has two different pictures? In a different version? Non mi ricordo. Non mi ricordo. Niente che so che tante le fotografie che aveste. Oh. Tante i bici che erano, erano d'offa. Yeah. Capite? No, non mi ricordo. No, non mi ricordo. E poi ho spettato. Aveste a me e che... E' un'altra cosa. Mi ricordo che erano di un bici a dirlo. E' una foto. E' un bici che erano da... E gli è stata sposata che aveva le nucificanze, noi ci trattavamo con la mamma, noi ci trattavamo con la mamma. Una famiglia faceva, e gli diceva, è zitta, non di niente. Io ti faccio sposare con questa mia, che essa le va sposare pure, una mese coppa le va sposare. E adesso già sai la cattata, come era una brava. Ci stanno i perso...